Il 2 agosto 1980 a Bologna è scoppiata una uova. Ha ucciso 85 persone e altre 200 sono alle messe ferite. L'orologio si è fermato alle 10.25. Non sappiamo ancora con certezza chi furono gli eseditori e i mandanti. La certezza però è che le vittime erano tutti i nostri poteri. L'orologio si è fermato alle 10.25. La certezza è passata più inizia a un'esercizio. L'orologio si è fermato alle 10.25. La certezza è passata più inizia a un'esercizio. Grazie a tutti.